Intanto vedo già collegata con noi Barbara Baffetti, pedagogista e referente della pastorale familiare CEI, con la quale parleremo della collana Santi Giovani, edita da Edizioni Francescane Italiane, che grazie appunto al lavoro di Barbara ci consente di entrare nella vita di alcuni santi o futuri santi giovani, che sono esempi preziosi per tutti quanti noi. Buongiorno Barbara, bentrovata. Dalla regia mi dicono che hai il microfono disattivato, per cui per fare arrivare la tua voce a tutti i nostri cari amici telespettatori, evidentemente devi sbloccare il microfono, vediamo se ci siamo. Buongiorno. Ecco, adesso ti sentiamo, prego la regia di alzare il volume della nostra prima ospite di oggi, così che posso sentirla bene. Buongiorno Barbara, bentrovata, dicevamo. Buongiorno, buongiorno e grazie dell'accoglienza, dell'invito. Grazie a te per la disponibilità del tuo tempo che ci concedi in questo primo sabato d'agosto, mese particolarmente vocato al riposo delle ferie, però anche, lo abbiamo detto tante volte in questi giorni, mese è quello di agosto, ma stagione è quella estiva, particolarmente anche vocata alle letture e noi siamo felici di poter parlare con te di questa collana di Santi Giovani, per cui ti chiederei subito come nasce appunto la collana sulla santità. Allora, intanto nasce da un progetto proprio pensato per proporre la santità di giovani vite, un patrimonio, una ricchezza che la nostra chiesa ha e che volevo far riscoprire nel mio intento agli adolescenti. Io da tanti anni vado nelle scuole con un progetto sull'affettività e quindi lavoro e mi metto in ascolto dei ragazzi, soprattutto degli adolescenti. Le domande di senso degli adolescenti, contrariamente a quello che è spesso il racconto che se ne fa tra gli adulti, sono domande di senso profondo e molto spesso mi sono chiesta se la conoscenza di alcuni testimoni di cui abbiamo appunto questa ricchezza all'interno della chiesa, queste giovani vite sante potesse essere d'aiuto alle vite di questi adolescenti, dare risposta alle loro domande di senso. Così nasce il primo testo in realtà dedicato a Carlo Acutis e devo dire che ha trovato l'accoglienza giusta. Edizioni Francescani e tutta l'equipe che lavora intorno alla collana ha accolto il progetto e l'ha custodito, l'ha curato direi secondo anche quelli che erano i miei intenti. Quindi l'idea è proprio questa, non raccontare biografie, non scrivere biografie su giovani vite di santi, ma piuttosto attraverso romanzi di fantasia che hanno al centro protagonisti degli adolescenti, mettere in filigrana alcune di queste vite sante perché possano essere di risposta alle domande che emergono nel romanzo. Grazie, grazie Barbara. Io sto leggendo proprio il libro su Carlo ed è veramente una bellissima intuizione quella di avvicinarci a queste figure straordinarie attraverso la quotidianità della vita dei protagonisti dei tuoi libri. La trovo una scelta davvero molto molto intelligente e oggi del libro e della figura di Carlo Cutis abbiamo parlato solo qualche giorno fa con l'ausilio di due frati, Fra Gaballo e Fra Gatto e oggi ci concentriamo invece sulla figura di Chiara Corbella. Come mai ecco nello scegliere queste figure poi ti sei concentrata anche su quella di Chiara Corbella? Allora perché, come dicevo, stando in ascolto degli adolescenti, dei giovani e delle giovani che incontro, spesso emerge una domanda sulla custodia della vita, no? Anche quando questa vita risulta essere complicata, anche quando la custodia, la cura della vita risulta essere complessa, a volte faticosa, no? Comporta scelte diciamo non così facili da prendere, comporta un discernimento adulto che ovviamente di fronte a una vita che sta crescendo o che è in fase di definizione, come nel caso degli adolescenti, non è così facile da comprendere. Oltretutto in un tempo in cui non sempre questa custodia della vita viene promossa in maniera chiara dal mondo degli adulti che circonda gli adolescenti. Allora appunto conoscendo e avendo a cuore la figura di Chiara Corbella ho pensato che potesse essere veramente di testimonianza grande di come anche in scelte faticose la vita possa essere custodita, ma soprattutto volevo che passasse il messaggio che le scelte faticose possono essere fatte diciamo in favore della custodia della vita laddove ci siano legami, relazioni, laddove non si rimanga soli. Ecco una cosa che vivono i nostri adolescenti per assurdo in una fase in cui siamo connessi e iperconnessi soprattutto loro è spesso la solitudine, la solitudine anche di fronte a scelte appunto non facili da prendere. Ecco l'idea era dire che Chiara Corbella sceglie di custodire la vita in una situazione non semplice ma lo fa sostenuta da tutta una rete di relazioni familiari, amicali, la sua storia è emblematica, è luminosa anche per questo, non solo per la scelta che lei fa personalmente ma perché è una scelta sostenuta da una rete e quindi è un libro che si rivolge agli adolescenti perché invita a non restare soli ma a dire, a parlare quando hanno, diciamo, quando qualcosa li preoccupa in maniera particolare, ma è anche l'invito a custodire la vita da parte di noi adulti, avere il coraggio di stare accanto ai nostri ragazzi anche quando ci consegnano delle scelte faticose, farli sentire non soli. Quindi direi un libro che si rivolge ad adulti e ragazzi insieme. Ecco mi soffermo un attimo su questo aspetto prima di tornare alla figura di Chiara nel particolare, alla sua storia e ai temi affrontati nel testo perché l'adolescenza sappiamo è uno dei periodi emblematici della vita di unione di noi, potremmo dire il momento cruciale della vita di unione di noi. Succede che poi magari diventando adulti dimentichiamo quanto sia delicato quel periodo e anche come genitori, tu come me sei un genitore, a volte ecco anche presi dalle dinamiche quotidiane del lavoro, delle incombenze, non riusciamo a dare il giusto tempo e il giusto ascolto ai nostri figli che a loro volta, vivendo gli anni dell'adolescenza, nel mio caso in maniera particolare la mia prima figlia ormai è nel pieno dell'adolescenza, mi rendo conto che è sfidante anche per noi genitori questo momento. Non so se i tuoi figli sono diventati già adolescenti, nel caso, se così fosse, vorrei chiederti quali trucchi, utilizzando questo termine in maniera scherzosa, tu adotti per non spezzare la connessione che dovrebbe esserci tra genitori e figli in questo periodo emblematico della crescita dei nostri ragazzi. Sì, allora, intanto io ho tre figli e i primi due ormai hanno superato l'adolescenza, l'ultimo è in fase, penso, finale. Beh, allora hai una grande esperienza. Diciamo che come tutti i genitori, quando arriva l'adolescenza, un po', no, come dicevi tu giustamente, ci troviamo destabilizzati nonostante l'abbiamo percorsa anche noi quella strada. Ma diciamo che è normale anche che sia così, intanto perché io, ad esempio, nell'esperienza dei miei tre figli, se dovessi dire, sono state tre adolescenze totalmente diverse. Sicuramente per noi come genitori, per me e mio marito, è stato importante starci e starci in alleanza genitoriale, intendo. Cioè, una cosa che, e su questo è molto più bravo mio marito, devo dire, nonostante gli studi fatti, e questo lo dico sempre, è importante per i nostri figli sapere che noi continuiamo a stare di fronte a loro con uno sguardo di bene, nonostante ci provochino, nonostante ci mettano in discussione e mettano in discussione tutto quello che abbiamo fatto, ricordando che quel passaggio è un passaggio fisiologico, non c'è un'identità che si possa costruire se non recide qualcosa con le radici da cui viene. Quindi c'è un'identità che si costruisce appunto mettendo anche in discussione il punto, il luogo dove si è cresciuti, è che quel metterci in discussione a noi genitori evidentemente a volte fa male e risulta faticoso. Direi che, non so se siamo stati bravi, io e mio marito, so però che, questo almeno penso di poterlo dire, nei momenti cruciali, in alcuni passaggi più importanti per loro, di alcune scelte fondamentali, sono tornati da noi, nel senso che non hanno avuto problemi a dircelo. E quindi direi che stare nei silenzi dell'adolescenza e starci in maniera non ripiegata, ma adulti dritti, adulti capaci di dire ci sono, ti voglio bene e ti vorrò sempre bene, dice loro la possibilità di tornare, anche in esperienze non facili, oppure anche semplicemente nelle scelte che verranno in futuro. Condivido, sono assolutamente d'accordo con te Barbara e in conclusione di videocollegamento tornerei ai tuoi libri che sono una preziosa lettura non solo per i ragazzi ma appunto anche per noi adulti e visto che oggi ci siamo focalizzati sulla figura di Chiara Corbella, poi ovviamente dovremmo fare un altro collegamento per parlare dell'ultimo libro di cui non abbiamo parlato, una luce di nome Chiara, ma oggi ci soffermiamo, quindi su Chiara Luce, oggi ci soffermiamo però su Chiara Corbella per parlare dei temi che affronta questo testo, ecco, nella speranza di suscitare ulteriormente, ulteriore curiosità nel nostro pubblico. Sì, i temi sono quelli, diciamo che, dicevo, intrecciato anche nell'ascolto dei ragazzi. C'è una madre, Marta, e c'è una figlia, Mia, e tra di loro c'è un segreto che è legato alla vita di Mia, all'origine della vita di Mia, che è un segreto in realtà tenuto a fin di bene da parte di Marta, che è una mamma sola, che ha fatto una scelta coraggiosa. E quando il segreto emerge, emerge con forza, in maniera spiazzante, legato anche all'innamoramento, al primo innamoramento di Mia, alle preoccupazioni che tutti noi genitori abbiamo di fronte, al primo amore dei nostri figli, a come parlarne, nell'amore, a come gestire anche tutta la dimensione della sessualità, Marta, diciamo, non riesce a stare come madre in maniera piena e il segreto emerge con forza, spiazzerà fortemente Mia e diciamo che l'equilibrio e l'armonia tra madre e figlia, dopo alcune vicende rocambolesche, che ovviamente non dico anche per non togliere il piacere della lettura, verrà a ricomporsi proprio alla luce della scoperta della storia di Chiara Corbella, una scoperta fortuita che Mia fa e che però da fortuita diventa veramente una scoperta preziosa, fortunata, direi. E' un po' quell'idea della santità della porta accanto, che dice Papa Francesco nella Gaudete dei Sultati, cioè una santità che possa intrecciare la vita e che venga da persone che sentiamo vicine, quindi liberare un po' i ragazzi dall'idea che il santo è il santo dell'immaginetta, passano in termini, che invece è quello che loro hanno come sentore. Ecco, nel caso di Chiara Corbella il test affronta tutto questo, l'amore, come vivere l'amore, come custodire una vita e anche come una vita ha bisogno di relazioni per poter crescere in maniera diciamo feconda. Molto bene Barbara, allora in attesa di ritornare in un futuro collegamento a parlare anche di Chiara Luce Badano, oggi ci siamo soffermati sulla figura di Chiara Corbella, tra l'altro letture interessanti di questi libri che oltre che nell'impostazione narrativa intelligente e particolare contengono anche poi delle pillole per approfondire, delle pillole per capire, l'invito a leggere altre fonti. Quindi grazie per essere stata con noi stamattina e per aver condiviso questi tuoi lavori. Dunque ci lasciamo con un arrivederci per parlare del terzo libro della collana. Benissimo, grazie, grazie a voi per l'accoglienza e buona estate a tutti ovviamente. Grazie, grazie ancora a te Barbara. Io voglio ringraziare anche Ida Casciani che ha favorito questi preziosi collegamenti. Ora restituisco la linea alla regia. Ci ritroviamo subito dopo la pubblicità e quindi restate con noi perché andremo a scoprire che cosa succede nell'orto del convento con il nostro padre guardiano Fra Rinaldo Totaro.